eccoci giunti all'ultimo giorno della brutto challenge onestamente non credevo di arrivare alla fine ma devo ringraziare davide che con questa sua challenge mi ha spinto a riuscire praticamente tutti i giorni almeno per mezzo ci voleva questo sprone quindi grazie davide adesso per chiudere in bellezza vi regalo uno splendido panorama di Davide Quenze dove oggi sono arrivato in bici lì di fronte a voi il Vesuvio dove avrei voluto chiudere questa challenge però prossimamente ci andrò e vi farò qualche foto da lì sopra che è davvero uno spettacolo martedì come sempre è tardi stiamo rientrando a casa chissà se riuscirò a trovarla a mezz'ora per concludere questo per questa sfida 30x30 io penso di sì vediamo se la mano è d'accordo è d'accordo dice di sì se mi punto la luce in faccia non vedo dove vado comunque il messaggio è è troppo tardi non c'ho voglia di far rulli quindi sono uscito mezz'ora nel bosco che è la cosa più facile e poi chiudiamo questo video da casa continuo a camminare nel buio e ci sono due stelle fantastiche ultimo giorno della sfida decisamente il giorno più difficile il trentesimo l'unico in cui ho rischiato di non fare un'attività siamo arrivati in fondo siamo arrivati in fondo grazie a tutti e grazie a tutte per l'impegno che avete messo per tutti i bei messaggi che mi avete mandato e c'è qualcuno tipo di che continuerà questa sfida fino a fine anno in una formula leggermente modificata sarà una sfida salvadie come dice lui e l'importante farà un'attività senza limiti di tempo quindi per chi vuole per chi volesse la sfida continua non farò un video al giorno perché è stata la parte decisamente più difficile di questa sfida per me vi ringrazio ancora e vi lascio appunto con dino con questa ultima attività fisica col sole che sta tramontando voglio ringraziare davide per questa bellissima iniziativa della brut challenge che ha smosso la pigrizia di alcuni di noi e ci ha permesso di essere più continuativi nell'attività fisica meno sedentari tant'è che da domani inizierò la mia sfida personale di attività fisica ogni giorno fino alla fine dell'anno